Quinta corsa a premio Gilbert Hent, una categoria G, sono in 11 al via. 1, Vandina, Nicola Bortolotti, 2, Utah S, Taldò, Elmo Ludic, 3, Sunrunner, Antonio Greppi, 4, Odini Joy, Colcemo Palomba, 5, Vento degli Olivi, Luca Farolfi, 6, Ulena Del Rio, Vincenzo Piscuoglio. Seconda fila, 7, Takabandafi, Andrea Bigliardi, 8, Jean-Peter, Igor Guasti, 9, Ratzinger Lake, Antonio Castiello, 10, Rotmabel, Gianvito D'Ambroso, 11, Vera degli Olivi, con Maurizio Cheli, al posto di Edoardo Baldi. Rapporto di scuderia tra i numeri 1 e 5. Stacco della macchina, veloce, Sunrunner, prende il comando, partita svelta anche Ulena Del Rio al suo esterno, mentre Udini Joy cerca di scavarsi il posto davanti a Vandina, manovra che riesce a Cosimo Palomba. Quindi Sunrunner, Antonio Greppi al comando con Ulena Del Rio di fuori, 200 metri passati in 15 secco, vediamo quarto alla corda il numero nodi di Ratzinger Lake, insiste Ulena Del Rio, ma Sunrunner fa capire che vuol correre davanti. Sempre Udini Joy, seconda la corda, 400 in 29,7, fa sul serio Vincenzo Piscoglio con la figlia di Equinox B, prendono vantaggi i primi tre, Vandina in quarta posizione a precedere gli altri capeggiati da Ratzinger Lake, poi vediamo via via tutti gli altri con in coda Rob Mabel. Il 600 in 45 secco, insiste Ulena Del Rio, match con Sunrunner che ancora salda battistrada, poi Udini Joy, ma il ritmo è veramente violento, il primo giro viene fuori in 59,6, ancora un 14,6 qui davanti le tribune. Intanto Ratzinger Lake lascia la corda e passa in quarta posizione, siamo a poco più di 600 metri dalla conclusione con Vincenzo Piscoglio e Sunrunner che danno luogo a una bellissima sfida. Chilometro in 1,14,7, 15,1 la curva, insiste Ulena Del Rio, Sunrunner risponde, poi Udini Joy, Ratzinger Lake, gli altri sono molto distanti, l'unico che sembra avere possibilità di farsi avanti è Rob Mabel con Gianvito D'Ambroso. Numero 11, Vera degli Ulivi, squalificato. Ora Vincenzo Piscoglio forse fa a prendere un po' fiato alla femmina nella scia di Sunrunner, mentre avanza la Sanger Lake, siamo a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,3. Sunrunner e Ulena Del Rio alle prese fin dal via, ultimi 100 metri, Sunrunner in vantaggio, Ulena Del Rio che ci prove ancora dall'ultimo guisto, ma Sunrunner ancora in vantaggio e viene a vincere su una comunque valida e combattiva. Ulena Del Rio mentre Rob Mabel prende il terzo posto, 1,14,9 la media al chilometro per la figlia di Self Possessed Antonio Greppi al Sulchi, il training di Diego Dall'Oglio per il signor Giampaolo Badiali. È tornata la vittoria che non veniva da oltre un anno, Sunrunner, la femmina, che ha fatto match con Ulena Del Rio che gli ha dato filo da torcere, l'attaccata per tutta la corsa, ma deve accontentarsi comunque di un validissimo secondo posto. mentre al terzo è finito bene il vecchio, ma sempre in forma Rob Mabel, la quota da favorita di Sunrunner 1,57. Grazie. 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 Grazie.